Quanto al provvedimento sulla diffamazione, come ho già ricordato, non è mio compito entrare nel merito di singole leggi. Mi è però ben chiara l'importanza di un provvedimento che l'informazione italiana reclama da anni. Ed ho molto apprezzato, Presidente Sardoni, la chiarezza con la quale ha escluso che dal giornalismo italiano venga una richiesta di impunità. Questo fa onore a voi, rafforza le vostre richieste e rinsalda la vostra credibilità presso i cittadini che talvolta vedono usare il diritto di cronaca come una clava. Non escludo che il provvedimento possa arrivare in aula nel mese di agosto pur fitto di impegni e ne sapremo più come diceva appunto nel pomeriggio dopo la conferenza dei capigruppo, in ogni caso, quale che sia la calendarizzazione, lo seguirò con grande attenzione, sapendo che quando si parla dell'importo delle sanzioni pecuniare nessuno può dimenticare quanto pesante sia la precarizzazione che in questi anni ha investito anche il mondo del giornalismo e quanto leggera sia invece la busta paga dei precari. Né mi sfugge il ricorso che in questi anni troppe volte è stato fatto a richieste di risarcimento spropositati allo scopo evidente di intimidire la libera informazione. Mi auguro che a breve esca dall'Aula di Montecitorio un testo equilibrato, capace di rispondere anche alle vostre preoccupazioni.